Quando ci sono le corte basse marette, però il comune scelta la pennella, la punta con l'argo di Salvegna e il mare, e che rende in posto benissimo colore? La con l'argo non le trova nessuno, eh? La con l'argo è tutta la caccia di un'argo. La con l'argo è tutta la caccia di un'argo. Grazie, signore, forse la Salvegna, forse l'olastra. La con l'argo è tutta la caccia di un'argo. Vedete un pochettino, quella che si avvicina, sono tutti innamorati. Perché che si chiama? La spiaggia tutti innamorati. Eh, si chiama così, la spiaggia tutti innamorati. Però cosa succede? Allora, parlate alla seconda spiaggezza. E voi per noi sono solo, vi per la spiaggia. Vedete un pochettino, vedete? Allora, cosa è successo? Che la prima coppia che arriva nell'appoggio di innamorati, che sono molto innamorati, non vanno che arrivano le persone e dice lei a lui, amore, da che ce ne andiamo nella seconda? Lì non c'è nessuno e consumiamo uno spavamento intimo. E invece fanno un errore grandissimo. Guardate, vedete che ce ne sono. Perché? Sì, vedete come si chiama la seconda? Si chiama la spiaggia di separati. Allora, ci ha ritirato sicuramente, guardate. Allora, si chiama la spiaggia di separati. Allora, innamorati. Altre, innamorati. Allora, la corso separata.